Un bandito solitario armato di pistola ha rapinato ieri sera poco dopo le 19 il minimarket fresco mio in via Nembrini a Nembro. Il malvivente ha atteso che nel negozio non ci fossero clienti. Una volta all'interno ha puntato la pistola contro uno dei titolari intimandogli di consegnare tutto il denaro in cassa, comprese le monete. Si è quindi allontanato facendo perdere le proprie tracce. Il bottino è di poche centinaia di euro. Il malvivente è stato descritto come un ragazzo magro, alto 1,80, di pelle scura. È la prima volta che questo minimarket subisce una rapina. Un paio d'anni fa aveva subito due tentativi di furto.